Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti ragazzi, ci sentite? Madonna! Lì da voi è appena scattata la mezzanotte del nuovo anno. Qui da noi sono da poco passate le 6 del pomeriggio e mancano altre 6 ore per arrivare alla mezzanotte. E indovinate dove abbiamo deciso di passare il Capodanno? A New York! A 360 gradi! Lo vedete? Lo riconoscete l'albero? Questa è Paola, là dietro c'è l'albero. Adesso impariamo bene. Questa è la situazione. Paola ma si vede? Devo abbassare la luminosità. Si vede? Adesso vi facciamo vedere intorno a noi. Ecco le luci di Saksa, adesso aspettiamo che riparta lo spettacolo. Non c'è tantissima gente ovviamente, però insomma neanche poca. Via! Sono quasi le 7 del 31 dicembre, qui a New York. Non c'è tantissima gente. Non c'è tantissima gente. Non c'è tantissima gente. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.